Ieri pomeriggi in Coppa Italia contro la Nove Gia si è visto praticamente allo stesso vittorio del primo tempo contro il Modica in campionato. Aggressivo, grintoso su ogni pallone, sempre pronta ad allargare il gioco sulle fasce e pericoloso nelle trame di attacco. La differenza tra le due partite l'hanno fatta alla fine degli episodi. Domenica scorsa ad esempio Nobile venne espulsa a metà ripresa, ieri invece verso la fine. E in questo caso la Nove Gia pur gettandone la mischia a quattro attaccanti non ha avuto il tempo materiale di trovare il pareggio. Poi c'è Fabio D'Agosta, esemplare nel mettere in allerta i difensori avversari che ormai vanno a raddoppiarli in marcatura. Un consiglio però ci permettiamo di dargli, cioè quello di allenarsi su calci di rigore. Un attaccante maturo e bravo come lui non può permettersi di calciare rigori come quello di ieri, avrebbe evitato affanne e sofferenze finale ai compagni. E poi Capitan Nobile, bravissime ed esemplare negli interventi difensivi, peccato per i contini rossi che accumula e che poi gli vanno a macchiare le prestazioni.